Ma sono fuori di testa, mani verso a loro, e tu sei fuori di testa, mani verso a loro, siamo fuori di testa, mani verso a loro. Cosa ti piacerebbe fare Andrea? Mi è piaciuto tanto camminare, c'è il bagno in piscina che abbiamo fatto ieri. Mi piacerebbe tanto camminare. Sì. Sì. Mi piacerebbe tanto camminare, c'è il bagno in piscina. Ci siamo quasi. Tommaso! Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Ah, di due, di due. Sì. Sì. Sì, sì. Sì. E abbiamo tutti, ragazzi. E con il Patrice. Sì. 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 Perfetto, ragazzi. Sì. 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 Questa va bene. Voglio solo sapere che cosa succede a lei. Marghe? Sì. Sì. Quali sono le tue carte? La nuova bacchetta. Buongiorno tata Susita! Giovanna, posso giocare anch'io? Certo. Meglio? Meglio? Così avendo ci sia noi e vedo. Guarda, aspetta. Tocca a te. Tocca a te. Mario. Sì, è lui. 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 Sì. 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 Sì, è lui. Sì. Sì. Sì, è lui. Sì. 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 Sì, è lui. Sì, è lui. Sì, è lui. Sì, è lui. è lui. Sì, è lui. Sì, è lui. Sì, è lui. è lui. È lui. Sì, è lui. Grazie a tutti. Grazie a tutti.